Il mio consiglio a Giorgia Meloni Questo video lo dedico a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio Questo video è intitolato Il mio consiglio a Giorgia Meloni Tutti sanno chi è Giorgia Meloni Io sono questo qua, vedete? Sono questo signore qua Mi chiamo Serafino Massoni Ho già compiuto 83 anni Quindi in me si trova tanta saggezza Quindi tu, Giorgia Meloni Ascolta il mio consiglio a Giorgia Meloni Vedi quanti libri che ho scritto Giorgia Meloni? Guarda, guarda quanti libri che ci sono di Serafino Massoni Guarda, qua c'è pure uno pubblicato a Londra Guarda, guarda, guarda Anche questo Sono patriarchi, tu patriarchi Si trova in tutto il mondo in lingua inglese Vedi quanta saggezza che c'è in me Giorgia Meloni? Allora, Giorgia Meloni Io qua ti spiego come deve agire un vero governo di centrodestra Te lo spiego perché ti voglio bene Io voglio bene anche il popolo italiano E voglio che il popolo italiano sia ben governato dal nuovo governo di centrodestra Tu hai fatto un grave errore Un gravissimo errore perché una delle tue prime opere è stata quella di sfacciare il reddito di cittadinanza Un gravissimo errore che scompacita tanto la società civile La società civile perché il reddito di cittadinanza Cara Giorgia Meloni Sta scritto dentro la carta costituzionale Tu la conosci vero la carta costituzionale Giorgia Meloni Io sono stato preside di ruolo nei dicei classici scientifici Giorgia Meloni E uno se vuol fare il preside di cittadinanza E uno se vuol fare il preside di ruolo nei dicei classici scientifici Deve conoscere tantissime cose Ma soprattutto deve conoscere la carta costituzionale Ci sono tanti articoli E c'è anche l'articolo 3 Al secondo coma l'articolo 3 recita È compito della Repubblica Rimuovere tutti gli ostacoli Di ordine economico eccetera Che impediscono la piena realizzazione della dignità umana Tu Giorgia Meloni non gli vuoi bene alla dignità umana Giorgia Meloni? E perché? E perché hai sfacciato il reddito di cittadinanza? Perché hai sbagliato Giorgia Meloni? Hai sbagliato Ora cerca di rimediare Giorgia Meloni Cerca di rimediare Lo devi ripristinare il reddito di cittadinanza Se vuoi la salvezza, capito? Se vuoi la pace sociale Devi ripristinare il reddito sociale Così il reddito di cittadinanza Così come è stato introdotto Dal movimento pentastellato Anzi lo devi migliorare Lo devi migliorare Devi aumentare Devi aumentare, capito? Beh, una volta che avrai Ripristinato Il reddito di cittadinanza In tutta la sua grandezza Magari anche migliorandolo Ai sensi del secondo comma Dell'articolo 3 Della carta costituzionale Un vero governo di centrodestra Giorgia Meloni Deve seguire i comportamenti Di quel paese che al mondo È la bussola È la stella polare Per tutti gli stati Lo sai qual è Giorgia Meloni Quel paese al mondo Che è la stella polare Che devono seguire tutti gli stati Quel paese Giorgia Meloni Si chiama Stato di Israele Ovvero stella di David Stella di David Giorgia Meloni Nello Stato di Israele Abitano Dieci milioni di ebrei Lo sai vero Giorgia Meloni Che cosa è successo Agli ebrei Per colpa di Del nazismo e del fascismo Sai vero Giorgia Meloni Cosa è successo La Shoah Giorgia Meloni Sei milioni di ebrei europei Portati Nei campi di concentramenti Nel lager Poi nelle camere a gas E poi lassù Di crematori Shoah Che finisce nel Maggio 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 del 45 La Shoah E tre anni dopo Nasce lo Stato di Israele E lo Stato di Israele Dove abitano Dieci milioni di ebrei Lo Stato di Israele Se la ricorda bene La Shoah Motivo per il quale Giorgia Meloni Lo Stato di Israele Non ha mai mandato Non manda E mai manderà Arbia all'Ucraina Hai capito La crisi L'antifona Giorgia Meloni Tu te devi comportare Come lo Stato di Israele Anche tu Giorgia Meloni Devi fare in modo Che in Italia Non le mandi più Le armi all'Ucraina Come fanno I dieci milioni di ebrei Che stanno dentro Lo Stato di Israele Ci sarà un motivo No Per il quale Lo Stato di Israele Non ha mai mandato Non manda E mai manderà Arbia all'Ucraina No Ti pare o non ti pare Giorgia Meloni E si vede Che lo Stato di Israele Non c'ha tanta simpatia Per l'Ucraina Per Zelensky Tu mi dici Giorgia Meloni Tu mi dici Che Zelensky è ebreo Ed io Serafino Massoni Sai cosa ti rispondo Giorgia Meloni Io Giorgia Meloni Ti rispondo così Come ci sono Dei cristiani Che non amano La croce E così Ci sono degli ebrei Che non amano La stella di Davide Cioè Non amano Il mondo ebraico Lo sai o non lo sai Giorgia Meloni Che ci sono Tanti cristiani Cristiani Che non amano La croce Così ci sono Degli ebrei L'Ucraina C'è una grande comunità ebraica Che si lamenta Per l'anti-giudaismo E l'anti-ebraismo Che c'è in Ucraina E così anche tu Giorgia Meloni Devi ripaltare la tua Politica estera Capito? Giorgia Meloni Capito? Se ti vuoi salvare Se vuoi fare Un vero governo Di centro-destra Capito? Ti devi Ti devi Dissociare Dall'Ucraina Ti devi avvicinare Alla federazione russa De Vladimir Putin Non te l'ha detto nessuno Giorgia Meloni Che fu Che fu Che fu Josef Stalin Nel 1948 A mandare le armi Allo Stato di Israele Che stava combattendo Contro gli arabi Perché gli arabi Non volevano Che si costituisse Lo Stato di Israele Non te l'ha detto nessuno Questo Non te l'ha detto nessuno Che Josef Stalin Dell'Uss Io fu il primo Capo di Stato A riconoscere L'esistenza Dello Stato di Israele Sia l'URSS L'URSS Di Josef Stalin Che l'attuale Federazione russa De Vladimir Putin Vogliono tanto Bina lo Stato di Israele Motivo per il quale Lo Stato di Israele Non l'ha mai mandato Non manda E mai manderà L'Ucraina Ma tu Giorgia Meloni Te lo sei mai chiesto? Ma com'è? Che lo Stato di Israele Non l'ha mai mandato Non manda E mai manderà L'Ucraina Lo sei mai chiesto Giorgia Meloni Ma devo essere io Illuminarti Ma lo sai Che lo Stato di Israele È la bussola È la stella polare E noi dobbiamo seguire E noi dobbiamo seguire I comportamenti Ci distorsiamo E con tutti i soldi Che risparmiamo Si ripristina È il reddito di cittadinanza E magari lo si potenzia E poi E poi Un vero governo De centrotesta Fa una potentissima Lotta contro L'evasione fiscale Perché contro L'evasione fiscale Abbiamo la magistratura La guardia di finanza L'arma dei carabinieri La polizia di stato Uuuuh Combattendo L'evasione fiscale Se ne trovano dei soldi Per fare un bellissimo Reddito di cittadinanza Giorgia Meloni Segui il consiglio De Serafino Massoni Capito? Ripristina subito Il reddito di cittadinanza E potenzialo E poi Fai quello che fa Lo stato di Israele Capito? Giorgia Meloni Dillo un consiglio Dei ministri Dillo Io Giorgia Meloni Ho sentito Il consiglio De Serafino Massoni Che mi ha spiegato Come stanno le cose A livello internazionale Per cui Io Giorgia Meloni Voglio che anche noi Italiani Facciamo come Lo stato di Israele Anche noi Dobbiamo smettere Di mandare le armi All'Ucraina E così E così E così Vivremo felici E contenti Perché Anche Papa Francesco Il nostro Papa Francesco Agli esordi Dalla guerra In Ucraina Ha detto Che Vladimir Putin Ha invaso l'Ucraina Perché la Nato Andava ad appagliare Ai confini Ai confini Della federazione russa Lo sapevi Giorgia Meloni Che il nostro grande Papa Francesco Ha detto proprio così Papa Francesco Ha detto che Vladimir Putin Ha invaso l'Ucraina Perché la Nato Andava ad appagliare Ai confini Della federazione russa Lo sapevi O non lo sapevi Beh Se non lo sapevi Te lo dico io E puoi fare Una verifica Sul web Oppure puoi andare Direttamente dal Santo Padre E glielo E che fai a chiederglielo È vero Santo Padre Che lei ha detto Le parole Che ora Serafino Massoni Dice che lei ha detto Vai 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 a trovare Il Santo Padre Chiediglielo Capito Giorgia Meloni Dai letta Serafino Massoni Perché io ti salverò Giorgia Meloni Capito E poi Giorgia Meloni Tu fammi pervenire Il tuo preciso Recapito postale Giorgia Meloni Ed io A mie complese spese Ti farò pervenire Una delle mie opere A tua scelta Giorgia Meloni Capito Bene Giorgia Meloni Se vuoi la salvezza Segui il mio consiglio Capito Ok Giorgia Meloni A te E a contesto governo Di centro-destra Tanti cari saluti Da tutte le opere Di Serafino Massoni Di Serafino Massoni Giorgia Meloni